Alvia lo screening con 5.000 tamponi rapidi per i residenti del comune di Arezzo. Si tratta dei test ottenuti in cambio di parte della fornitura di sierologici non utilizzati nella campagna delle scuole degli scorsi mesi. Si tratta di un numero, spiega il vice sindaco Lucia Tanti, tarato sul 5% della popolazione del territorio comunale, una percentuale che rappresenta un campione attendibile. Il tampone prosegue e resta ovviamente volontario e costituisce una risposta concreta alla fase che stiamo vivendo, laddove le varianti del virus stanno determinando a livello nazionale e locale criticità da risolvere il prima possibile. L'amministrazione comunale così dà un ulteriore contributo. L'inizio di questa nuova campagna è previsto per domenica 14 marzo. Per potersi prenotare basterà accedere al sito del comune di Arezzo dove il link www.comune.arezzo.it slash tamponirapidi rimanderà alla piattaforma concepita sulla base di semplici passaggi che guideranno così i cittadini. Le giornate a disposizione per effettuare i tamponi saranno domenica dalle 10 alle 13, lunedì dalle 16 alle 19 e 30. Riguardo ai numeri e alla frequenza di test giornalieri sono stimati 300 e 120 lunedì e tra i 90 e i 100 la domenica. La sede è la sezione locale della Croce Rossa italiana in via Raffaello Sanzio. Resta attivo poi sempre nel sito anche l'altro link relativo alla prenotazione dei test sierologici per la popolazione scolastica dai 3 ai 14 anni. Raffaello Sanzio